È necessario eseguire i tamponi al fine di individuare in maniera precoce gli infermiere e gli altri operatori sanitari positivi al Covid-19 ed evitare che se infettati possano diffondere il virus soprattutto ai soggetti più fragili. La richiesta perentoria, inviata ai direttori generali delle ASL pugliesi e al direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, è firmata dai presidenti dei tre ordini professionali degli infermieri di Bari, Batte e Brindisi, Saverio, Andreula, Giuseppe Papagni e Antonio Scarpa. In questo momento di emergenza è necessaria l'adozione dei protocolli di sicurezza anticontagio. L'assistenza infermieristica, spiegano i tre presidenti, può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. L'esecuzione del tampone, si ribadisce, è oggi priorità per tutti i lavoratori della sanità. Gli operatori sanitari sono notevolmente esposti al contagio, scrivono i tre presidenti. Sempre più spesso si ammalano per la mancanza dei dispositivi sanitari di sicurezza e per il contatto stretto con pazienti che possono risultare positivi, rischiando così a loro volta di diffondere il virus negli ospedali. Gli infermieri, i medici e gli operatori sanitari sono in prima linea in questa emergenza, ricordano Andreola Papagne Scarpa, per questo dobbiamo tutelarli e supportarli nel più breve tempo possibile. Gli infermieri pugliesi non si sottrarranno ai loro impegni professionali, ma oggi pretendono di essere tutelati e di conseguenza invitano e diffidano i loro datori di lavoro in ogni ambito di attività a rispettare le disposizioni di legge.